Domenica 5 ottobre prossimo si svolgerà un evento a carattere nazionale denominato Porte Aperte 2014. L'evento riguarda il tirassegno nazionale. Non tutti sanno che a Sulmona esiste un poligono di tiro affiliato all'Unione Italiana Tiroassegno. Si tratta di una struttura ben attrezzata, con linee di tiro ed ogni attrezzatura necessaria alla pratica del tirassegno. La struttura ubicata in via tratturo numero 3 è immersa nel verde ed è molto apprezzata da chi ha l'occasione di visitarla. Porte Aperte dunque per chiunque voglia visitare il poligono. L'invito è rivolto ai giovani, ai ragazzi, alle donne, alle famiglie, alle scuole ed a tutti gli sportivi che vogliono conoscere l'esaltante pratica del tirassegno. Moltissime sono le sezioni del tirassegno nazionale dislocate su tutto il territorio italiano aderenti a tale manifestazione. In Abruzzo sono sei le sezioni del TSN dislocate a Sulmona, L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo che aderiscono questa iniziativa. È una giornata di festa dunque i visitatori potranno provare gli attrezzi sportivi presso le dette sezioni del TSN come simulatori tiro laser ed aria compressa assettite ovviamente dagli istruttori qualificati del poligono. A Sulmona in particolare dicevamo la struttura è immersa nel verde ed è veramente piacevole trascorrere qualche ora per conoscere tutte le attrezzature esistenti. È importante ricordare che lo sport del tiro nello specifico favorisce lo sviluppo della coordinazione, concentrazione, autocontrollo ed aiuta a mantenersi in buona forma fisiopsichica. Al poligono di Sulmona gli ospiti potranno visitare i padiglioni di tiro ad aria compressa ed a fuoco dove i campioni di tiro si allenano in previsione dei prossimi giochi olimpici di Rio de Janeiro nel 2016. L'Unione italiana tirassegno in considerazione dell'importanza dell'evento ha messo a disposizione di tutte le sezioni aderenti dei gadget che ha realizzato espressamente per l'evento. Appuntamento dunque per domenica 5 ottobre in via Tratturo a Sulmona. Il poligono resterà aperto dalle 9.30 alle 18.00.